Buongiorno a tutti, come potete vedere è un onore per tutti noi. Per questo incontro ci siamo spostati dagli spazi munari e rodari, che sono gli spazi soliti dove vengono gli incontri per i ragazzi, qui in questa struttura perché avevamo bisogno di più spazio, visto che questo incontro fin dall'inizio è stato richiestissimo. E' un onore per noi avere all'interno del caro Autore Ti Scrivo, il concorso che voi conoscete bene perché molti di voi, moltissimi, hanno partecipato quest'anno, lo scrittore Michael Morpurgo. Grazie mille. Le lettere che ci sono arrivate e ci tengo a ripetere tantissime, cioè una notte intera per leggerle tutte, molti di voi l'hanno visto il film. Quindi poi eventualmente se volete se ne potrà parlare anche perché la maggior parte di voi pare abbia sinceramente preferito il libro al film e questo è un esempio in cui la letteratura supera il cinema. Non è che è una gara, però succede così. A intervistare Michael Morpurgo e a moderare l'incontro perché come sempre succede nello spazio ragazzi, diamo spazio alle domande vostre, agli interventi. Siamo contenti di avere una scrittrice, poco fa ha finito il suo incontro nello spazio ragazzi, qui anche in veste di editor che è l'altro mestiere che fa, proprio per Rizzoli, che ringraziamo, che ha pubblicato in Italia il libro di Morpurgo Warholz. E parlo di Beatrice Masini. In questo incontro abbiamo bisogno di una traduttrice visto che Michael Morpurgo per ora non parla italiano, in futuro probabilmente non si sa. Quindi ringraziamo del suo aiuto fin da adesso, Lidia. Per finire, sempre qui con noi c'è una troupe televisiva vera e propria che è arrivata dall'Inghilterra, la BBC, che sta girando un documentario su Morpurgo e anche noi probabilmente entreremo nel documentario. Quindi applaudiamo accogliendo anche la BBC. Grazie. 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 Grazie a tutti. Non vi rubo altro tempo. Buon incontro. Buongiorno, siccome siete tantissimi, siete più del doppio del previsto, io penso che abbiate altrettante domande da fare e quindi vorrei giusto fare la parte di chi introduce, di chi rompe il ghiaccio, per poi lasciare la maggior parte dello spazio e del tempo a voi. Quindi rapidamente, Michael Morpurgo, nato negli anni 40, tre figli, sei nipoti, più di cento libri scritti, storie brevi, illustrate, romanzi per bambini e per ragazzi. War Horse è nato come un piccolo libro, è del 1982, è stato finalista a un premio ma non l'ha vinto e poi è diventato un meraviglioso spettacolo teatrale che è andato in scena prima a Londra ed è ancora in scena a Londra, sempre tutto esaurito, adesso è anche a Broadway e sta girando il mondo. Uno spettacolo molto particolare di cui poi magari Michael ci parlerà e poi è diventato dopo anche un film con questo grande regista. Però questo diciamo è l'attualità, il qui ed ora di Michael Morpurgo che ha una storia molto interessante di attività nel mondo della letteratura per ragazzi in patria, prima di diventare un autore noto in tutto il mondo e tradotto in tantissime lingue. E a me piacerebbe proprio chiedergli di questo, di due cose in particolare, di un'esperienza che ha fatto come laureato dei bambini, è una cosa che in Italia non c'è, ecco. E quindi vogliamo farci raccontare da lui che cosa vuol dire essere Children's Laureate e quali sono le attività e come l'ha svolta lui. Buongiorno, you see I do speak Italian. Buongiorno a tutti, come vedete un pochino di italiano lo parlo anch'io. In Inghilterra, ma credo questo discorso valga anche per l'Italia, la letteratura per ragazzi è considerata in qualche modo una letteratura di serie B. Quindi io ed un grande uomo di lettere, Ted Hughes, abbiamo deciso di lanciare un'idea. Volevamo modificare il corso delle cose. Perché per noi i bambini e la letteratura per bambini e per ragazzi sono una cosa estremamente importante invece. Sappiamo tutti che i ragazzi a cui non piace leggere troppo, i ragazzi che non leggono quando sono giovani, poi non si trasformano necessariamente in grandi lettori poi in età adulta. E se non si legge, non si riesce ad approfondire nessun tema, non si riesce ad andare in profondità nella conoscenza di se stessi prima di tutto e nella conoscenza del mondo. Per questo motivo abbiamo deciso di adoperarci affinché la letteratura per ragazzi diventasse una letteratura di prima importanza a livello nazionale e internazionale. Quindi abbiamo deciso di istituire questa sorta di figura secondo la quale per due anni un poeta oppure uno scrittore oppure un illustratore di letteratura per ragazzi sarebbe diventato Children's Laureate, in qualche modo l'ambasciatore della letteratura per ragazzi nel Regno Unito. E qual è l'attività principale di questo Children's Laureate per due anni? Questa persona deve fare di tutto per far sentire alta e chiara l'importanza della letteratura per ragazzi suonando la gran cassa e facendosi sentire per quanto possibile ai più alti livelli. Si tratta anche di portare avanti un'attività rivolta ai genitori affinché siano in grado di invogliare i propri figli a leggere. Si tratta anche di stimolare e incoraggiare il più possibile gli insegnanti a mettere al centro della loro attività la voglia di leggere da parte dei propri ragazzi. E anche eventualmente sgridare i ministeri e i ministri che qualche volta adducendo motivazioni di tagli, di bilancio e quant'altro non fanno altro che chiudere le biblioteche. Tra l'altro a me piace molto prendere a calci, dice lui, i ministri e i ministeri. Ok, grazie. Ecco, un'altra domanda su un'altra attività poco nota da noi che è quella delle Farms for City Children. Io sono stato insegnante per dieci anni e mia moglie Claire, che è qui seduta in prima fila con me oggi basta che cerchiate la donna più bella presente sotto la tenda, la troverete. Mi diverte molto imbarazzarla e ci sono riuscito anche questa volta. Ci siamo resi conto in quanto insegnanti e corpo docente che i ragazzi nelle scuole purtroppo molto spesso non ce la facevano. A volte provenivano da famiglie in cui effettivamente i genitori non leggevano e non parlavano sicuramente di letteratura. E quindi c'erano delle difficoltà scolastiche che si annunciavano. Scolastiche e non solo, anche nella vita successiva. C'era poi un'altra parte di ragazzi invece più fortunati, ma io preferisco parlare dei ragazzi meno fortunati, di quelli appunto che non avevano, diciamo, i sostegni giusti. Ragazzi che vivevano in una sorta di povertà di esperienza. Che tutto sommato fuori dalla scuola non facevano molto altro se non stare attaccati, incollati alla televisione. E noi ci siamo detti che fornendo loro degli spunti validi, degli appigli per approfondire le loro conoscenze, sarebbero sicuramente diventati degli adulti migliori e avrebbero ottenuto grossi risultati nella vita. E per esempio, uno di questi spunti, uno di questi strumenti era un buon libro. Claire, mia moglie, è vissuta in campagna e adora la campagna. E riteneva che fosse diritto assoluto e irrinunciabile di ogni ragazzo poter fare la stessa esperienza, poter vivere in campagna. Per questo motivo abbiamo istituito una sorta di fondazione benefica. Abbiamo fatto costruire e erigere un'enorme casa per poter accogliere i ragazzi. All'interno di una grossa fattoria. Una fattoria piena di animali, galline, cavalli, mucche, eccetera. I ragazzi vengono accolti in questa fattoria e vengono durante il periodo scolastico con i loro insegnanti e hanno la possibilità di portare avanti questa esperienza di vita vissuta proprio in campagna e in una fattoria. Così cominciano a capire da dove proviene il cibo che mangiano. Non proviene dal supermarket. Piantano alberi. Scavano le patate. Imparano anche a pulire le stalle. E portano, per esempio, le pecore al pascolo. Aiutano anche le pecore, eventualmente le mucche, a mettere alla luce i propri cuccioli. Hanno la possibilità di osservare il paesaggio, di vedere le acquile che si levano alte nel cielo. E hanno la possibilità di vedere anche il sole che tramonta sul fiume. E per questi ragazzi, vi assicuro, si tratta di un'esperienza completamente nuova. E hanno la possibilità di rientrare a casa con il cuore e gli occhi colmi di cose e di esperienze che non avrebbero avuto altrimenti modo di fare. Questa è un'attività che portiamo avanti da circa 35 anni. In totale, ora abbiamo istituito tre fattorie di questo tipo. Abbiamo avuto una media di 120.000 ragazzi. Eccoci qua. Questo per dire che se uno immagina lo scrittore chiuso nella sua stanza, chino sui suoi fogli, è meravigliosamente contraddetto da tutte queste attività. Ecco, una ultima domanda, diciamo, generale. War Horse è diventato uno spettacolo teatrale e poi un film. Un altro libro pubblicato anche in italiano, Private Peaceful, La guerra del soldato pace, è diventato un film che esce fra poco. Che cosa prova uno scrittore a vedere trasformare la propria opera in qualcosa di diverso o magari anche a volte a contribuire a farlo, quando ci può mettere del suo? È sempre estremamente entusiasmante per me perché vedere l'adattamento teatrale o cinematografico di una delle mie opere scritte significa dare nuova vita in qualche modo all'opera. E che sia un bel o un brutto film il risultato, diciamo, di questo adattamento non importa perché semplicemente spingerà probabilmente la gente a leggere il libro. Perché gli scrittori alla fine sono tutti uguali e vogliono che molti lettori, quanti più lettori possibili, legano i loro libri. E in questo modo sarà possibile comprare più oggetti. Il problema rimane però, tornando seri, cioè il film non è il tuo libro. E quindi è abbastanza normale che vedendo l'adattamento cinematografico di un tuo libro tu sia sorpreso per non dire qualche volta deluso. Diciamo che dopo aver visto il film di Spielberg, War Horse, cioè il suo adattamento cinematografico, la mia reazione è stata di sorpresa e di gioia, diciamo, per la maggior parte del film. Ci sono stati, naturalmente, dei momenti in cui ho pensato che forse si poteva fare di più e meglio. I think the people who lived in the countryside, in England and in France, the farmers, ho incontrato i contadini, le persone che vivono in campagna, in Inghilterra e anche in Francia, were too well dressed and they looked too pretty. Sono andati a vedere il film tutti ben vestiti, tutti in ghingeri e sembravano tutti troppo belli, troppo finti. E le loro mani, ad esempio, nel film di questi contadini non erano abbastanza sporche. Non si ricavava l'impressione che il lavoro della terra in quel periodo fosse un lavoro veramente duro, almeno a vedere gli attori che impersonavano quei contadini. Però devo dire che per la maggior parte del film il mio commento non può che essere positivo. Noi siamo qui per World Wars, fra gli altri libri tradotti in italiano di Morpurgo c'è un piccolo libro illustrato che si intitola La domanda su Mozart. Poco fa un'amica mi diceva che l'ha dato da leggere a un ragazzino, un tredicenne, che faceva fatica a leggere, che l'ha scelto proprio perché era piccolo e con tante figure. E poi alla fine ha detto che non immaginavo che in un libro così piccolo potessero esserci così tante cose. Ci sono tante cose e una delle cose che c'è è Venezia, perché è una parte del libro ambientata a Venezia. E Michael Morpurgo ce ne legge un piccolo pezzo in inglese, così ascoltiamo la sua voce. Sono appunto re e duce da Venezia, sono tornato da Venezia ieri. Ho lavorato a Venezia con Claire e con una nostra amica Jane Fever proprio sulla sceneggiatura del film che sarà tratto da La domanda su Mozart, questo libricino che abbiamo in mano. È una storia che mi è stata ispirata da una visita che avevo fatto a Venezia una decina d'anni fa. Claire e io eravamo tornati da un concerto lato a niente. Tornavamo io e Claire da un concerto di notte e girando, svoltando un angolo, abbiamo sentito della musica. C'era un uomo che suonava la chitarra appoggiato ad un lampione e stava suonando della bellissima musica spagnola. Poi abbiamo notato un ragazzino proprio a pochi metri di lì poteva avere 7-8 anni era vestito col pigiama e stava appoggiato su una biciclettina con la testa appoggiata così sulle mani tutto assorto nell'ascolto di queste note di chitarra. Anche io e Claire siamo rimasti presi da questa atmosfera e siamo rimasti lì per una decina di minuti. Il ragazzino non si è mosso mai. Era in intensa concentrazione. Ed in quell'istante ho deciso di scrivere un libro sulla storia di un ragazzino la cui vita sarebbe stata profondamente trasformata dalla musica. Per me Venezia è una sorta di paradiso in terra è magnifica a parte i turisti e anch'io faccio parte della schiera dei turisti. E un anno dopo circa a un certo punto mi sono ritrovato a pensare beh ma se Venezia è il paradiso sulla terra qual è l'inferno? Io di solito questo è il mio modo di procedere quando lavoro e quando penso sono un sognatore. L'inferno sulla terra per me deve essere sicuramente Auschwitz o uno dei tanti campi di concentramento. Forse sapete che ad Auschwitz i nazisti facevano suonare i prigionieri quando accoglievano per così dire i nuovi prigionieri che scendevano dai treni che li avevano deportati ad Auschwitz. Quindi io ho fatto in modo che questo ragazzino ascoltasse la musica e che avesse il papa e la mamma che suonavano in questa piccola orchestra del campo di concentramento. e in questa orchestra si suonava moltissimo Mozart. Ecco che una delle buona parte delle musiche più sublimi mai scritte dall'uomo e in particolare le musiche di Mozart venivano suonate in quello che io definisco l'inferno il vero inferno sulla terra. Quando si è scrittori bisogna cercare di mettersi nei panni delle persone che poi leggeranno i tuoi scritti. E quindi io nella mia testa mi sono voluto mettere nei panni proprio di questi due genitori. Cioè ero io quello che suonava musiche di incomparabile bellezza Mozart guardando altre persone che venivano portate a morire. e mi sono chiesto ma delle persone così che suonavano in quelle circostanze così terrificanti saranno in grado di ascoltare ancora la musica in futuro? Io sarei in grado di farlo? E la mia risposta è stata no non è possibile. Penso che prenderei il mio violino il mio strumento e lo nasconderei da qualche parte. Ed ecco che nella mia storia succede proprio questo il ragazzino scopre un giorno un violino nascosto sopra ad un mobile. E si chiede appunto ma perché questo violino è nascosto perché mamma o papà non suonano il violino? E i genitori non ne vogliono parlare ritengono che il loro figlio sia troppo giovane per parlare di questi argomenti. E poi a poco a poco nel corso della storia il segreto viene svelato. E il suo padre finalmente ha detto la storia del suo tempo nel camp e del violino. Il padre racconta al proprio figlio la terribile storia che aveva tenuta nascosta per tanti anni che non riusciva ad affrontare col figlio per tanti anni e gli racconta la storia appunto della musica del violino. leggerà il testo dal suo libro in inglese così magari qualcuno di voi che è bravo o vuole fare un po' di esercizio può seguire direttamente dall'inglese e poi io comunque leggerò la traduzione del testo in italiano. The three of them were brought by train to the concentration camp from all over Europe. Benjamin from Paris Mama from Warsaw Papa from here from Venice all musicians all Jewish and all bound for the gas chamber and extermination like so many millions. They survived only because they were able to say yes to one question put to them by an SS officer on arrival at the camp. Is there anyone amongst you who can play an orchestral instrument who is a professional musician? furono portati in treno al campo di concentramento Benjamin da Parigi la mamma da Varsavia il papà da qui da Venezia tutti musicisti tutti ebrei e tutti destinati alle camere a gas e allo sterminio come molti milioni di persone sopravvissero solo perché furono in grado di rispondere sì alla sola domanda fatta loro da un ufficiale delle SS all'arrivo al campo c'è qualcuno tra di voi che sa suonare uno strumento dell'orchestra? ci sono musicisti professionisti? quando si fecero avanti non sapevano che sarebbero stati subito separati dalle loro famiglie e sarebbero rimasti a guardare mentre i soldati le ammassavano e le spingevano verso quegli infernali cammini non sapevano che non avrebbero mai più rivisto i loro cari ci furono delle audizioni naturalmente e a quel punto l'avevano capito suonavano per salvarsi la vita poi ci furono le prove e fu durante le prove che loro tre si conobbero benjamin aveva vent'anni buoni più della mamma e del papà che erano i più giovani dell'orchestra avevano tutti e due vent'anni perché l'orchestra facesse le prove per chi avrebbe suonato non lo sapevano e non lo chiesero chiedere voleva dire attirare l'attenzione e sapevano che non era il modo giusto per sopravvivere e nel campo sopravvivere era tutto suonavano Mozart tanto Mozart il repertorio era in gran parte leggero e lieto eine kleine Nachtmusik il concerto per clarinetto in La Maggiore minuetti danze marce e anche Strauss era popolare waltzer sempre waltzer suonare era molto difficile perché le loro dita erano così gelate che a volte quasi non le sentivano perché erano deboli per la fame e spesso malati la malattia andava nascosta perché una volta scoperta significava morte le SS erano sempre lì a sorvegliarli e tutti sapevano che cosa li aspettava se non suonavano abbastanza bene at first we fought back with our music it was our only weapon all'inizio tenevano concerti solo per gli ufficiali delle SS il papà disse che bastava far finta che non ci fossero ti perdevi nella musica era il solo modo anche quando applaudivano non alzavi nemmeno lo sguardo non li guardavi mai negli occhi suonavi con tutto te stesso ogni interpretazione era la migliore non per compiacere loro ma per dimostrare che cosa sapevi fare per far capire quanto eri bravo a dispetto di tutto quello che facevano per umiliarti per umiliarti per distruggerti nel corpo e nell'anima combattevamo con la musica disse il papà era la nostra sola arma grazie grazie e a questo punto le domande tocca a voi ci sono i microfoni che vagano la parola passa alzate magari la mano così facciamo prima se volete fare domande oppure semplicemente fare un commento dire qualcosa anche se è solo per dirmi che siete stufi e che devo andare via mi pare che c'è qualche coraggioso applaudiamolo come ti chiami? Irene ciao Irene ciao qual è la domanda se c'è la domanda non c'è fretta tranquilla te la ricorderai prima o poi a quale scopo ha scritto il libro War Horse? perché ho voluto scrivere War Horse? per quale scopo? innanzitutto tutti i libri che scrivo sono basati sulla verità o iniziano con qualcosa di vero nel caso di War Horse avevo incontrato un tizio un giorno al bar in un pub nel paesetto in cui abito nel Devon ci sono tre signori anziani che erano stati in guerra che avevano partecipato alla guerra ed ecco che un giorno mi sono trovato in compagnia di uno di questi tre signori al pub ci siamo messi a chiacchierare e allora mi sono rivolto a lui dicendogli ho saputo che lei è stato soldato durante la prima guerra mondiale che lei è andato in guerra e lui mi ha risposto sì 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 sono andato in guerra avevo 17 anni e mi ha anche detto io accompagnavo cavalli ed ha cominciato a raccontarmi storie di cavalli in particolare la storia del cavallo che probabilmente era quello che lui preferiva al quale era più affezionato e che aveva seguito proprio durante la guerra il modo in cui parlava al cavallo quando gli dava da mangiare la sera e mi ha anche detto Michael non ci crederai ma quel cavallo mi ascoltava potevo raccontare a quel cavallo le cose che non avrei raccontato al mio migliore amico potevo raccontargli della paura che provavo del pensiero orrendo di poter morire il giorno dopo e di quanto provassi nostalgia per casa questa questa sua confessione mi ha molto colpito e commosso e sono tornato a casa e lo stesso giorno ho deciso di telefonare ad un museo di Londra un museo che appunto si occupa della storia della guerra e ho chiesto se erano in grado di dirmi quanti fossero stati il numero preciso di cavalli che erano stati inviati in guerra dall'Inghilterra la risposta non si è fatta attendere il giorno dopo mi hanno telefonato dicendomi esattamente non sappiamo darle una risposta precisissima ma circa si tratta di un milione di cavalli e poi ho chiesto e quanti di questo milione di cavalli sono tornati 65.000 e penso che sia lo stesso numero di cavalli che è stato ucciso diciamo nello schieramento inglese e lo stesso probabilmente numero di soldati che sono morti nelle nostre fila e fra l'altro uomini e cavalli sono morti nello stesso modo a pezzi fatti letteralmente a pezzi venivano come dire le carni venivano strappate nel filo spinato venivano colpiti a morte dalle mitragliatrici morivano soffocati annegati quasi nel fango cavalli e uomini nello stesso modo quindi da qui nasce lo spunto del libro volevo scrivere una storia una storia particolare su questa guerra ma senza diciamo parteggiare per nessuno degli schieramenti in campo non volevo mettermi dalla parte degli inglesi dei francesi degli italiani dei tedeschi volevo assumere diciamo la posizione neutra del cavallo il cavallo che vede le cose ovviamente in modo neutro e non parteggia per nessuno quindi una visione molto più universale della sofferenza non solo delle sofferenze della guerra mondiale grazie per questa domanda puoi dirmi come ti chiami? Gabriele ciao Gabriele perché ha scelto di raccontare la guerra attraverso gli occhi innocenti di un cavallo? è un po' quello che ho risposto prima alla tua amica nel senso che non volevo prendere posizione io sono britannico tu sei italiano l'istinto è sempre quello di parlare o di scrivere partendo da un punto di vista il punto di vista dell'inglese dell'italiano ma non va questo non è un ragionamento corretto volevo scrivere una storia e parlare di guerra in modo sganciato da qualsiasi partito preso da qualsiasi posizione o atteggiamento preconcetto volevo scrivere di guerra sganciandomi da tutto e scegliere il cavallo mi ha dato questa opportunità attraverso gli occhi del cavallo è possibile vedere la sofferenza dei soldati inglesi dei soldati tedeschi ma non solo anche dei contadini francesi sulle cui terre veniva combattuta quella guerra l'orso e l'orso il cavallo scusate il cavallo non prende posizione non si schiera per nessuno grazie Gabriele can I know your name my name is Sarah hello hello cosa ha provato quando ha finito di scrivere il libro war or cioè che cosa ha provato cosa le ha dato questo libro quando finisco di scrivere un libro il sentimento principale che provo sempre è di gran sollievo oh ho finito però scherzi a parte con war horse ho provato qualcosa di diverso come vi dicevo prima mi piace davvero immedesimarmi nelle storie nei racconti e nelle persone nella vita dei personaggi che racconto nei libri per poter perdersi in qualche modo nella sofferenza in particolare in war horse nella sofferenza che ti circonda diciamo che in un certo modo mentre scrivi di questa sofferenza la rifugi riesci a sfuggirla per cui verso la fine della storia quando Albert e il suo cavallo Joey tornano a casa ho provato anch'io lo stesso sentimento la stessa sensazione anch'io stavo tornando a casa la guerra era finita e quindi anche questo era un'altra forma di sollievo poi ho consegnato il manoscritto del libro prima di tutto l'ho fatto leggere la mia moglie Claire che è la mia prima critica lo ha letto e mi ha detto che le era piaciuto per me è molto importante avere il suo appoggio però purtroppo tutti i libri che ho scritto dall'ora in poi e che ho fatto leggere la mia moglie non appena l'avevo terminato mi ha sempre detto la stessa cosa che le piacevano credo che lo faccia per incoraggiarmi gli altri libri non erano mai belli quanto Warhorse ecco e questa è la verità i fatti che accadono quotidianamente nella vita condizionano il suo modo di scrivere sì 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 dove sei sei sparita resta un piedi per favore così mi rivolgo direttamente a te è un'ottima domanda ci ho messo un po' devo per pensarci sopra ogni scrittore naturalmente scrive sulla base della vita che fa degli eventi e dei fatti della vita che lo circondano dunque uno dei motivi per i quali ho deciso di scrivere di guerra è perché io sono cresciuto dopo la seconda guerra mondiale a Londra che è stata funestata da ingenti bombardamenti quasi ognuno di noi in Inghilterra immagino che valga lo stesso discorso per l'Italia ha perso un amico un parente un membro della famiglia in guerra io per esempio ricordo da ragazzino la fotografia di mio zio che è stato purtroppo ucciso in guerra a 21 anni nell'aviazione inglese la foto che campeggiava sul caminetto me la ricordo benissimo non l'avevo mai potuto conoscere però da bambino per lui per me lui era un eroe poi crescendo mi sono reso conto che mia madre che era appunto la sorella di questo zio ogni volta che si avvicinava un anniversario o se era non so il compleanno di questo fratello purtroppo deceduto in guerra piangeva piangeva sempre e quindi da qui ho capito che anche se la guerra è finita di fatto non è mai finita perché il dolore la sofferenza continuano grazie c'è c'è spazio sì vediamo infatti una ecco aspettiamo un momento che escano i ragazzi che devono andare arrivederci ciao sì 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 hanno certo e abbiamo spazio ancora per due domande una domanda e poi c'è la premiazione delle recensioni che è il fortunato mortale eccola lì sì 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 ho sono Eleonora è bene con te molto bene con te e bene che parli un po' in inglese bravo volevo chiedere se mai non ha deciso di approfondire quello che è successo dopo alla fine della guerra sì invece I did why I did sorry I haven't understood the question after Warhorse are you saying why didn't I say more about what happened after the war tu mi hai chiesto perché non ho voluto approfondire di più il discorso dopo la fine della guerra in Warhorse o in generale I'm just saying that I wrote a sequel dice che ha scritto un sequel una continuazione che si intitola Farm Boy che è proprio quello che succede a Joey quando torna dopo la guerra quando torna nella sua fattoria a casa dopo la guerra credo che non sia ancora per il momento pubblicato in Italia non ancora ti suggerisco di rivolgerti alla signora qui accanto a me e di dirle quanto ti piacerebbe poter leggere in italiano questo libro tradotto e pubblicato fra l'altro devo dire che il libro il mio libro preferito fra quelli che ho scritto è anche meglio di Warhorse diglielo subito grazie per questa domanda bene ho paura che non ci sia c'è tempo forse ce lo prendiamo ultima una veloce è difficile lei perché era in piedi già da prima ha aspettato più degli altri microfono qui davanti nei libri che lei ha scritto sono ispirati a fatti che lei ha vissuto o persone che lei ha conosciuto oppure di pura fantasia io parlo nei libri sempre di cose vere di avvenimenti realmente accaduti cercando di collegarli ad altri avvenimenti reali e quindi in questo assemblaggio diciamo creo una storia per esempio prendiamo Warhorse alla fine della storia forse lo ricorderai c'è un incontro fra un soldato inglese e un soldato tedesco questo non è mai non si è mai verificato in realtà non con il cavallo però c'è un'altra storia vera il giorno di Natale del 1940 i soldati dalle trincee tedesche si sono arrampicati e sono usciti dalle trincee sventolando delle bandiere bianche degli stracci bianchi portando salsicce wurstel e grappa e urlavano al schieramento opposto Buon Natale Tommy che era il nome dei soldati inglesi ed ecco che anche i soldati inglesi decisero di uscire dalle loro trincee hanno portato anche loro le loro salsicce sigarette e whisky e si sono incontrati nella terra di nessuno che c'è in mezzo alle trincee opposte e hanno festeggiato insieme il Natale quindi i due nemici che si incontrano una cosa assolutamente straordinaria si verifica hanno deciso di giocare una partita a calcio Inghilterra contro la Germania è la verità quindi viene fatta questa partita e poi mi è capitato di leggere una lettera di un ufficiale tedesco che aveva scritto questa lettera alla moglie a casa e la lettera dice così Lipley ti scrivo per annunciarti una cosa meravigliosa ci siamo incontrati ieri nella terra di nessuno con i Tommy's con i soldati inglesi e abbiamo fatto una partita di calcio e sono lieto di annunciarti che il punteggio è è stato il seguente Fritz cioè soldati tedeschi due Tommy zero due a zero per i tedeschi e mi è capitato proprio di leggere questa lettera manoscritta da un tedesco che era in trincea in quella circostanza quindi diciamo che ho usato lo spirito di questa realtà se non il fatto realmente accaduto per scrivere nei miei romanzi non so se ho risposto alla domanda quindi sto dicendo sostanzialmente che sono un gran bugiardo ecco ora mentre altri ragazzi si allontano perché devono tornare a scuola concludiamo con la premiazione delle recensioni allora nel leggere il libro ho avuto la sensazione di vivere realmente i fatti raccontati di udire il frastuono dell'esplosione e il grido dei feriti di provare la fatica della corsa e di sentire il cuore che batte all'impazzata per la paura di morire Guglielmo del Col classe seconda E scuola lo zer Pordenone è qui? eccolo ai 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 dicono che qui c'è il nome scritto in modo sbagliato il suo nome peccato il secondo secondo ecco qua è una lettera a Michael Morfurgo la parte del libro che mi è particolarmente piaciuta per il messaggio che lei trasmessa sono molto lunghe battagliamo è quella dove il soldato tedesco e quello inglese sospendono la guerra per pochi minuti per poter salvare Gioe rimasto intrappolato nel filo spinato dimostrando in questo modo che tutto si può risolvere se c'è fiducia reciproca nelle persone e leonora leonora measso seconda ci e infine vediamo qua ecco qua mi è piaciuta la sua idea di mettere un cavallo come protagonista di una storia così triste secondo me infatti un animale è la fonte più pura di pensiero per quanto riguarda la guerra poiché non ha ideali religione non può provare odio eppure spesso anche nella storia soprattutto i cavalli si sono trovati a essere usati nelle guerre in prima fila e hanno dovuto morire a fianco dei più eroici guerrieri senza poter far nulla per evitarlo e questa persona è Ilaria Covazzi è Ilaria Covazzi bravi a tutti a questo punto anche se credo di interpretare il pensiero di tutti avremmo voluto anche continuare a chiacchierare con Michael Morpurgo e dobbiamo chiudere perché il tempo non ce l'abbiamo più e prima di ringraziarlo vi vorrei dire due note di servizio che potremmo fare una fila per chi vuole e Morpurgo sarà disponibile per gli autografi mentre lì in quel banchetto ci sono in vendita i suoi libri e anche quelli di Beatrice Masini ringraziamo Michael Morpurgo grazie e lo riaspettiamo qui a Bordenone ci piacerebbe molto e Beatrice Masini grazie 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 grazie